Lutto nazionale è notte di veglia in un Libano che si prepara ai funerali del generale Wissam el-Assan, il capo dell'intelligence, ucciso nell'esplosione di un'autobomba con altre sette persone. Ezequie che l'opposizione intende trasformare in una mobilitazione generale contro la Siria, che accusa dell'attentato, e contro il governo che l'avrebbe protetta. Davanti alla residenza del premier, i manifestanti si accampano, decisi a restare fino alle sue dimissioni. Najib Mikati si è detto pronto, ma il presidente non autorizza per tema di un pericoloso vuoto politico. Intanto la vedova e i due figli sono rientrati sabato da Parigi, dove il generale, che sapeva di essere in pericolo, li aveva fatti trasferire. Scelta simbolica, Wissam el-Assan sarà ora seppellito accanto a Rafi Khariri, primo ministro ucciso nel 2005 in un attentato anche suo attribuito a Damasco.